La sottoscrizione questa mattina del contratto di comodato d'uso dell'area del Carcavone per noi assume una rilevanza particolare perché all'interno di quest'area che è di proprietà di città metropolitana insisto in Iconetti Vulcanici, un sito di particolare interesse storico naturalistico del nostro territorio. Quindi l'acquisizione attraverso il comodato d'uso per un periodo lungo di 9 anni ci consentirà di mettere in campo una serie di iniziative che vanno nella direzione di valorizzare e tutelare quell'area del nostro territorio ma soprattutto di promuoverla attraverso una serie di iniziative di carattere culturale che già negli anni quell'area ha ospitato e stiamo pensando già dal prossimo di Natale di concentrare in quell'area una serie di iniziative che abbiamo programmato come Comune di Pollena Trocchia. Poi certamente contiamo di avvalerci anche della collaborazione di associazioni che possono aiutare il Comune nelle attività quotidiane. L'altro aspetto fondamentale di questa iniziativa è che grazie al comodato d'uso noi faremo il possibile per fare in modo che l'area sia fruibile quotidianamente quindi sia dai cittadini che dalle scolaresche per visite guidate quindi proveremo a concentrare anche in quell'area una serie di iniziative quindi non occasionali come è accaduto negli anni precedenti anche se iniziative di rilievo ma sistematiche e quotidiane. Abbiamo voluto affidare con un comodato d'uso gratuito la località Carcavone al Comune di Pollena e al suo bravo sindaco nella persona dell'Avvocato Francesco Pinto perché siamo sicuri che saprà valorizzare al massimo il bene e quindi questo è un altro passo importante verso il nostro obiettivo che è quello della valorizzazione della tutela del patrimonio della città metropolitana di Napoli. Quando le sinergie positive si incontrano si riesce sempre a portare dei risultati ai territori.